Musica Ben trovati a Dora Tg, domenica tragica quella appena trascorsa nelle strade del Catanese in prognosi riservata un 38enne rimasto coinvolto in un terribile incidente è venuto ieri a Pedara, si trova all'ospedale Cannizzaro intanto si indaga sull'esatta dinamica, sentiamo Gwenda Caronzo Una manovra di sorpasso azzardata sarebbe questa alla base del violento impatto avvenuto ieri pomeriggio a Pedara qui su Corso Ara di Giove, quasi al confine con il comune di Nicolosi dove si sono scontrate due utilitarie al calar del sole una Citroen C3 ed una Lancia Y le vedete ridotte ad un ammasso di lamiere accartocciate e finite ai margini della carreggiata una è impattato contro il muro dopo aver sbandato e carambolato per diversi metri feriti entrambi i conducenti un 38enne di giarre a bordo della Y che viaggiava in direzione opposta alla Citroen versa ancora in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasferito d'urgenza in ambulanza entrato in pronto soccorso alle 18.30 in codice rosso è stato trattato al Trauma Center dopo accertamenti diagnostici e poi trasferito in chirurgia vascolare sottoposto ad intervento chirurgico attualmente è in terapia intensiva la sua prognosi rimane riservata ricovere in ospedale anche per colui che era alla guida dell'altra autovettura un ragazzo di 23 anni catanese che avrebbe invaso in fase di sorpasso la corsia di marcia opposta impattando a velocità contro la lancia che sopraggiungeva in senso contrario la fortuna ha voluto che entrambi fossero soli nei rispettivi autoveicoli le conseguenze del sinistro infatti avrebbero potuto essere ben più gravi il 38enne era diretto verso un ristorante pizzeria di Nicolosi dove lavora come pizzaiolo per lui le maggiori preoccupazioni da parte dei soccorritori che si sono trovati davanti ad un ferito che non rispondeva alle sollecitazioni esterne estratti entrambi da ciò che è rimasto dei mezzi operazione resa possibile grazie all'intervento dei vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine alla 118 sono stati trasportati nelle diverse strutture ospedaliere per le cure del caso il 23enne le cui condizioni di salute sin da subito sono apparse meno complicate è stato ricoverato al policlinico da una prima verifica nessuno dei due conducenti pare indossasse la cintura di sicurezza sull'asfalto inoltre nessun segno di frenata brusca né di liquidi che abbiano potuto rendere viscido l'asfalto la strada provinciale che collega i comuni di Pedara Nicolosi è rimasta completamente interdetta al traffico veicolare per diverse ore nel pomeriggio necessaria la chiusura per consentire rilievi e dare una dinamica più chiara all'incidente e adesso voltiamo pagina oggi in prefettura Catania il direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia a Catania tra immobili e terreni sono oltre 300 e saranno distribuiti a 15 comuni della provincia Mario Grasso sono ben 303 i beni confiscati alla criminalità organizzata che a breve saranno affidati ad alcuni comuni catanesi la procedura ormai agli sgoccioli consentirà alle municipalità di Catania Cibonacorsi, Calatabbiano, Fiume Freddo di Sicilia Gravina di Catania, Licodie Ubea, Mascali, Mascaluccia Militello in Val di Catania, Pedara, Piedemonte, Teneo, Randazzo Trecastagni, Vie Grande e Vizzini di acquisire in modalità sincrona i vari beni principalmente si tratta di terreni ma anche edifici per un valore complessivo che supera di parecchio il milione di euro questa mattina in prefettura si è svolta una conferenza dei servizi in presenza del prefetto Bruno Frattasi direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di adottare tutte le procedure che formalizzeranno la destinazione dei beni Le unità immobiliari ma sono anche terreni agricoli che verranno a loro destinati appunto per varie finalità finalità che sono di tipo istituzionale ci faranno la sede di un qualche loro ufficio potranno essere di carattere sociale cioè li consegneranno previo bando a delle associazioni che vorranno lì fare delle attività di carattere sociale con un progetto e finalità anche economiche potranno cioè metterli a rendita e poi utilizzare quella rendita quei canoni per interventi di carattere sociale quindi questi beni sottratti alle mafie alla mafia non verranno diciamo così dispersi ma invece verranno riconquistati dai territori che dove erano e potranno essere utilizzati per finalità come vi ho detto che hanno prevalentemente questo scopo sociale ma non solo questo scopo sociale perché potranno avere anche altre destinazioni altre forme di destinazione forse questa è la migliore risposta che lo Stato può dare in casi del genere ma certamente è la risposta che riafferma la superiorità la supremazia la forza dello Stato nei confronti dell'antistato di quello che noi abbiamo da sempre considerato l'antistato una forza cioè di contrasto e di negazione dello Stato il prefetto di Catania Claudio San Martino è un lavoro continuo che si inserisce all'interno di tutta l'attività degli organi dello Stato della magistratura che è arrivata a colpire e a sradicare fenomeni inquinanti e mafiosi e poi per la restituzione ai cittadini e alla fruizione collettiva di beni che sono stati patrimonio di organizzazioni criminali e quindi una doppia vittoria si può dire non solo che vengono sottratti alle organizzazioni mafiose ma che vengono assegnati per la fruizione collettiva a favore dei cittadini su questo siamo impegnati tutti assieme a supporto delle amministrazioni comunali che svolgono un ruolo fondamentale di destinazione dei beni a favore dei servizi e delle attività dei cittadini Se vogliamo è la riaffermazione del primato dello Stato? Di tutto il corpo dello Stato che è un corpo variegato la magistratura, le forze dell'ordine l'amministrazione dell'interno l'agenzia dei beni confiscati che si muove come un sol corpo proprio in questa ottica di sradicamento del fenomeno e restituzione ai cittadini dei beni che sono stati sottratti alla loro fruizione E restiamo a Catania per parlare della gestione dei rifiuti e le criticità della raccolta differenziata questa mattina seduta straordinaria del Consiglio Comunale su iniziativa del consigliere Andrea Barresi Le criticità palesate dal sistema di raccolta dei rifiuti ma anche la gara d'appalto settennale che verrà sono alla centro della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Catania questa mattina convocata su richiesta del consigliere di maggioranza Andrea Barresi un modo per non abbassare la guardia su un sistema ereditato dalla vecchia amministrazione che va avanti ormai da mesi anche con delle proroghe e che prelude al nuovo appalto che per sette anni con il sistema del porta a porta differenziato su tutto il territorio comunale e non solo in una porzione dovrà determinare soprattutto l'inalzamento esponenziale della percentuale di raccolta differenziata che oggi sebbene migliorata nel corso degli ultimi mesi si attesta ancora su percentuali davvero basse praticamente sovrapponibili a quelle delle altre città metropolitane siciliane Andrea Barresi chiarisce ai nostri microfoni il perché della seduta consigliare Nasce dall'esigenza che purtroppo ravvisiamo in città una gestione sbagliata di tutto quello che è la materia dei rifiuti assistiamo a fenomeno di micro discariche assistiamo anche ad alcune lacune dal punto di vista normativo per quello che riguarda l'offerta tecnica la gara d'appalto e l'esecuzione dei lavori di raccolta dei rifiuti in città per questo stamattina ho proposto un consiglio straordinario comunale per le esigenze esposte al fine di dare all'amministrazione una possibilità di richiamare a pennello le aziende che stanno andando a porre in essere il servizio di gestione dei rifiuti in città per dare una strigliata e per attenuare e per accentuare il sistema dei controlli da parte nostra quale stazione appaltante nei confronti della ditta oltre è stato anche richiesto di andare a costituire una task force speciale composta da vigili urbani e dagli operatori del settore della nettezza urbana dei dirigenti dell'ufficio comunale per far sì che i controlli siano maggiormente presenti in città cercando di elevare il problema della raccolta dei rifiuti perché Catania nel 2019 non può avere dei biglietti da visita ma agabri quali quelli che purtroppo assistiamo nelle strade nelle vie principali e soprattutto nelle parti periferiche della città si guarda anche alla gara settennale purtroppo oggi noi assistiamo a questo fenomeno perché siamo ostaggio tra virgolette di una gara ponte che è stata ovviamente concepita e figlia di una precedente amministrazione oggi il consiglio comunale ha votato nelle scorse settimane l'atto di indirizzo per incominciare a dare una nuova prospettiva per la gara settennale che deve essere fatta abbiamo chiesto al signor assessore ovviamente il messaggio rivolto al sindaco la quale sensibilità ovviamente è in questo abbastanza importante di far sì che la nuova gara settennale preveda dei meccanismi di tutela per parte ovviamente dell'amministrazione e soprattutto degli obblighi contrattuali ben specifici nei confronti delle aziende che dovessero andarsi a giudicare i quattro lotti che sono previsti siamo sul tema della differenziata fondamentale e l'attività di sensibilizzazione a partire dalle scuole andiamo ad Acireale dove oggi si è svolta un'iniziativa proprio all'istituto Rodari e saranno anche piantati degli alberi per far riflettere sui temi ambientali la settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2019 tocca anche agli istituti scolastici accesi stamattina all'incontro in una delle sedi dell'istituto comprensivo Rodari con l'obiettivo di sensibilizzare sempre più gli alunni nell'ottica di una corretta raccolta differenziata diciamo si inserisce in un percorso educativo che noi già abbiamo iniziato da tanti anni la settimana diciamo per la riduzione dei rifiuti quest'anno è arrivata all'undicesima edizione e ha uno slogan molto interessante perché consiste fondamentalmente in questo conosci cambia previeni e quindi il nostro obiettivo è innanzitutto quello di far conoscere ai bambini ai ragazzi qual è l'impatto che questa produzione enorme di rifiuti provoca diciamo per nel nostro pianeta ma anche per il nostro benessere per la nostra vita per la loro e per la vita naturalmente di tutti e far soprattutto sorgere loro la consapevolezza maturare la consapevolezza che ridurre i rifiuti è possibile attraverso una serie di azioni anche quotidiane semplici e quindi per esempio l'organizzazione mondiale la FAO ha reso noto un dato che è veramente allarmante cioè che più di un terzo degli alimenti che vengono acquistati in realtà poi non vengono consumati e vengono buttati quindi quello che concretamente si può fare è iniziare già con acquistare in maniera consapevole soprattutto anche in termini di quantità naturalmente poi c'è la questione dei beni durevoli in quel caso si può fare un altro tipo di discorso quindi si può pensare a riciclare i beni o attraverso lo scambio il dono perché naturalmente quello che è superfluo per noi può non esserlo per altre persone quindi attivare anche una rete un tessuto solidale è un percorso che stiamo iniziando da adesso lo stiamo iniziando proprio in questa settimana che è la settimana della sera la settimana europea sulla riduzione dei rifiuti noi crediamo che la sensibilizzazione e una serie di incontri con bambini di scuole primarie e secondarie di primo grado sia fondamentale perché è un'età in cui i bambini sono in una fase di apprendimento particolarmente spinta e quindi stiamo spingendo su delle azioni proprio base le regole proprio basi sulla raccolta differenziata come si differenzia e anche cerchiamo in qualche modo di rendere responsabile all'interno delle proprie famiglie e facendogli diciamo dandogli anche un piccolo ruolo quale il piccolo ambasciatore all'interno della propria famiglia altre iniziative in programma nell'imminente? giorno 21 che è la giornata dell'albero faremo una piantumazione di alberi ne pianteremo circa 10 11 alberi ne pianteremo 8 a Scillichendi e 3 nella frazione di Stato e poi riprenderemo la settimana ancora prossima sulla scuola Grassi Basini in via Mercredi San Giuliano e adesso per la cronaca andiamo a Catania nel quartiere San Berillo dove i carabinieri hanno arrestato in fragranza un 25enne gambiano lo vedete in foto poiché è ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti si arrampicava sul balcone di un'abitazione di via Zara dove aveva nascosto la droga che puntualmente piazzava ai clienti che ne facevano richiesta in strada e quanto osservato dai militari che sono intervenuti per porre fine all'attività illecita operazione resa estremamente difficile dalla strenua resistenza opposta dal giovane extracomunitario che ha fatto di tutto per evitare le manette i carabinieri dopo una concitata collutazione sono riusciti a bloccarlo ed a manettarlo sul balcone gli operanti hanno potuto rimbenire 80 grammi di marijuana suddivisa in 35 dosi mentre la rimanente sostanza era ancora da imbustare adesso ci spostiamo ancora ad Acireale dove proseguono i lavori della pista ciclopedonale nell'ex linea ferroviaria oramai dismessa un paesaggio suggestivo oggi il sopralluogo dell'assessore Grasso lungo il tracciato di circa a tre chilometri salvo Cutuli sopralluogo stamani dell'assessore ai lavori pubblici Carmelo Grasso a cantiere della pista ciclopedonale dell'ex linea dismessa delle ferrovie dello Stato il progetto si sviluppa in un contesto di grande bellezza paesaggistica lungo il tracciato di tre chilometri tra gallerie e scorci naturalistici mozzafiato i lavori di adeguamento del tratto ferroviario avviati lo scorso mese di settembre sono in fase avanzata e prevedono oltre alla scerbatura la rimozione delle traverse in legno il livellamento della sede ciclopedonale la collocazione delle staccionate la sistemazione delle isole di affaccio e l'illuminazione interna alle gallerie liberato il percorso da Rovest e Pagli che nel corso dei decenni hanno invaso i 3000 metri lineari di linea ferrata lentamente viene restituito agli antichi splendori questo scorcio di timpa rimasto incontaminato dall'ottocento tra natura rigogliosa e anfratti naturali sorprendenti come questa grotta di origine lavica rimasta per anni nascosta alla vista dalla folta vegetazione si tratta di un antico ingrottamento lavico messo in sicurezza dagli ingegneri delle ferrovie che ne hanno assicurato la stabilità senza mortificare la struttura originaria il piano di realizzazione della pista ciclopedonale lentamente prende corpo nell'ambito del progetto denominato ACI Greenway e finanziato con un fondo comunitario a ribasso di poco più di 329 mila euro la cui consegna è prevista per la prossima primavera c'erano macchie mediterranee immagini delle nostre coste delle nostre baie veramente stupende io mi auguro che a breve i nostri cittadini ma non solo anche i turisti possano soffrire di questa bellissima pista di questa bellissima struttura che è diciamo un luogo bello un luogo di sport ma anche un luogo simpolico perché noi dobbiamo tendere dobbiamo andare verso la sostenibilità e questo è un primo passo verso altri obiettivi che da qui a breve mi auguro raggiungeremo si completerà e si integrerà questa pista ciclopedonale con quelli che sono gli altri progetti appunto della città e l'obiettivo è quello proprio di di integrarla di integrarla già con RFI venerdì scorso abbiamo fatto un sopralluogo volto a vedere i lavori e il sito della nuova fermata la nuova fermata va collegata con l'attuale parcheggio Cappuccini lì saranno fatte delle postazioni di bike sharing e car sharing e quindi l'integrazione di questa pista con i sistemi di mobilità ad affitto insieme alla rete cittadina che dovrà sorgere in città tra qualche anno potrà rendere a Cireale veramente un percorso ciclabile continuo a rete e che possa in qualche modo spingere e stimolare i cittadini ma come dicevo anche i turisti ad utilizzare come modo di trasporto anche la bicicletta il crono programma dei lavori prevede la rimozione e lo smaltimento della traversa in legno il livellamento del tracciato e la posa delle staccionate abbiamo fatto uno sfalcio non indifferente che le erbe erano molto alte e poi stiamo adesso adottando dei principi per quanto riguarda la scerbatura ma oltre alla scerbatura anche il diserbo proprio per pulire tutto quanto dopodiché inizieremo i veri lavori che proprio a giorni sono già in cantiere quindi in pratica pochissimi giorni togliere le traversine lineare quello che è il manto insomma la base sì sì togliere le traversine sistemare tutto il manto mettere il cao idotto per l'illuminazione delle gallerie e tutto il resto quindi staccionate recensione eccetera ci saranno anche delle isole di affaccio esatto su questo bel panorama ci sono dei punti dove si può osservare il panorama su Santa Tegla Stazio eccetera Lavori di ristrutturazione di altre due chiese danneggiate dal terremoto di Santo Stefano sono 50 quelle colpite dal sisma di quasi un anno fa a finanziare la CEI e la generosità dei fedeli No, andiamo avanti il mondo degli scout si è riunito a San Giovanni la Punta per l'assemblea regionale a Gesci presente all'evento ha incontrato i giovani il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti vediamo i 3.300 capi della Gesci Sicilia l'associazione guide scout cattolici italiani chiamati a raccolta lo scorso weekend in occasione dell'assemblea regionale che si è svolta a San Giovanni la Punta nell'istituto superiore Enrico De Nicola l'occasione per confrontarsi sulla recente riforma Leonardo sulle dinamiche di partecipazione associativa e sul documento che riguarda l'accoglienza elaborato lo scorso maggio dal consiglio generale della Gesci i temi dell'educazione dell'accoglienza al centro dell'intervento del fondatore di Libera Don Luigi Ciotti la sua presenza la Gesci tra i fondatori di Libera un valore aggiunto in vista dell'aggiornato della memoria e dell'impegno che si celebrerà a Palermo il prossimo 21 marzo chiedere alla Gesci se non di continuare il cammino che è cominciato 25 anni fa quando è nata Libera Libera è un coordinamento di associazioni la Gesci è stata una delle grandi protagoniste della crescita di questa associazione che dai piccoli gruppi iniziali oggi Libera è in tutta Italia in tutta Europa nell'America Latina e in Africa è il segno di associazioni di cittadini di comunità di chiese di realtà diverse che si sono messe insieme con un obiettivo molto chiaro totale per la libertà per la dignità per i diritti per la vita e di somma è anche operare nel contrasto all'illegalità alla corruzione alla violenza alle mafie ma non è solo il contro ma è un per e nel per ci sta la sfida educativa che è fondamentale importante che è anima della Gesci la rivoluzione culturale perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze e soprattutto il grande impegno per una conoscenza vera perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento per essere cittadini non a intermittenza a seconda dei momenti delle emozioni ma cittadini responsabili cittadinanza vuol dire responsabilità meglio corresponsabilità collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste essere un pungolo propositivo ma forte se non fanno le cose giuste per chiedere conto chiedere conto perché dobbiamo chiedere conto per operare tutti insieme per il bene per il bene il comune il bene di tutti e per non dimenticarci che la città è un organismo vivente che ha bisogno del contributo per vivere di tutti e quindi le varie realtà nella loro diversità si devono fecondare reciprocamente per non dimenticarci che l'accoglienza è la vita che accoglie la vita non solo basta accogliere gli altri bisogna anche riconoscerli l'accoglienza però ha bisogno di relazioni la relazione è l'essenza della vita l'unità di misura dei rapporti umani sulla faccia della terra sono le relazioni e in un momento come questo è fondamentale recuperare accoglienza relazioni riconoscimento cittadinanza vera dobbiamo evitare degli errori uno dei grandi errori fare in modo che non diventi un idolo la legalità una parola stratta una parola solo educativa dentro certi ambiti ma la legalità deve diventare una parola di vita di vita di vita dicevamo dei lavori di ristrutturazione di altre due chiese danneggiate dal terremoto di Santo Stefano i finanziamenti giungono dalla CEI e dai fedeli con l'avvio dei lavori nella chiesa di Aici Platini in quella di Santa Venerina si chiude il primo step di messa in sicurezza e apertura al culto delle sette chiese tra le 49 complessive della diocesi di Aici Reale danneggiate dal sisma della notte di Santo Stefano opere finanziate al 70% dalla CEI la conferenza episcopale italiana che sostiene il progetto con 500 mila euro e il restante 30% con fondi raccolti tra i parocchiani la scelta delle sette chiese inserite nella speciale gradatoria della curia accese è frutto di un'attenta analisi tra le comunità rimasta in senso luogo di culto che ha anche un pollo di aggregazione sociale aspetti non secondari per la chiesa che intende così restituire almeno la ripresa delle funzioni religiose a quasi un anno dal devastante evento tellurico che ha causato danni milionari di cui si attende la ricostruzione che tarda ad essere avviata nonostante i fondi promessi e la nomina dal commissario unico per la chiesa madre di Aici Platini distanziati 120 mila euro per la chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Santa Velerina l'importo accantonato di 170 mila euro soldi che serviranno a mettere in sicurezza i luoghi di culto e aprire in tutta sicurezza ai fedeli le funzioni religiose sette le chiese interessate dei lavori come detto Santa Maria La Stella Ciplatani Cicatena La Vinaio Piano d'Ape Milo e Santa Velerina 49 quelle delle diocesi che hanno subito danni in alcuni casi gravi e per le quali sarà necessario attendere i fondi statali per la messa in sicurezza soprattutto dei campanini ci vorranno anni e tanti soldi per le opere di sistemazione nel frattempo la chiesa con fondi propri e la collaborazione dei parrocchiani restituisce alle comunità quelle che hanno subito danni riparabili con impegni di spesa improprio Partono i lavori per le prime sette chiese della nostra diocesi di Acireale grazie ai fondi dell'8x1000 alla chiesa cattolica che la CEI ha voluto stanziare immediatamente per le comunità terremotate la scelta è stata addettata innanzitutto da criteri pastorali lì dove non c'erano più punti di aggregazione oltre alle chiese i locali di aggregazione delle comunità si è fatta la scelta di puntare su queste sette chiese dove i danni sono relativi e quindi è possibile intervenire con determinate somme con questi interventi ovviamente si tratta di un contributo al 70% tramite i fondi della CEI al 30% i fondi delle singole comunità quindi sono state raccolte dalle comunità proprio per sensibilizzare per corresponsabilizzare a quasi un anno dal terremoto ci sono ancora migliaia di persone rimaste fuori casa intere comunità private dei luoghi di aggregazione religiosa e sociali è importante abbiamo detto i fondi della CEI infatti la CEI sta notando come a Cireale sta spendendo in maniera corretta questi soldi che vengono direttamente da Roma ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare appunto la raccolta fondi che stanno appunto facendo le nostre comunità parrocchiali ci sarà poi un evento giorno 26 martedì anche a Santa Venerina una cena solidale quindi le comunità ancora si stanno muovendo le comunità stanno camminando insieme vogliono raccogliere appunto soldi e fondi affinché queste comunità possano nuovamente rientrare nei luoghi di culto e adesso a Catania i familiari dell'artista il maestro pittore Gian Calogero hanno donato un prestigioso dipinto un'opera d'arte al comune di Catania questa mattina a Palazzo degli Elefanti la cerimonia vediamo questo è il prospetto della cattedrale oggi questo invece è il prospetto della cattedrale secondo il pittore catanese Gian Calogero che nel 1967 dipinza ad olio la santuosa chiesa dedicata alla martire Agata patrona di Catania il quadro è stato donato adesso dagli eredi del pittore che visse tra Catania Cicastella e Parigi alla municipalità catanese che lo esporrà in maniera permanente nella sala concetto marchese di Palazzo della Cultura questa mattina la consegna che testimonia anche il legame tra l'artista e la sua gente ma soprattutto con Catania luogo di nascita e anche terra da cui il pittore si allontano giovanissimo per raggiungere il successo internazionale sono certa di interpretare la volontà di mio padre nel donare quest'opera alla città di Catania e a tutti i cittadini un'opera bellissima che rappresenta appunto la nostra città un omaggio a Catania quindi che avrà il suo massimo sviluppo nella mostra che andremo ad inaugurare sabato al GAM al Museo di Arte Moderna di Catania alle 18 e quindi aspetto tutti i miei concittadini a dare onore a questo grande artista che ha fatto tanto per la nostra città Parigi è certamente il centro culturale che ha reso Calogero quel grande artista che tutto il mondo conosce ma se questo è vero è pur vero che Catania è il luogo prescelto da Calogero per godere del meritato successo circondato dall'affetto dei suoi cari e come ha detto mia sorella mio padre era molto legato alla città di Catania e a tutti i catanesi quindi la mostra si svolgerà alla Galliera d'Arte Moderna di Catania sarà inaugurata il 23 di questo mese e che dire siamo contenti di aver donato quest'opera perché mio padre era veramente orgoglioso della città di Catania e soprattutto dei catanesi oggi dunque la donazione del quadro cattedrale al comune di Catania ma da sabato e sino al 19 gennaio sarà possibile ammirare l'opera artistica di Calogero al GAM di Catania nella mostra dedicata a Calogero si vedranno dipinti dedicati a Catania è un omaggio a Catania abbiamo raccolto e da privati e dalla nostra collezione privata la collezione privata dell'archivio Calogero tutte le opere inerenti alla città di Catania o ciò che è molto vicino a Catania anche alcune opere sul territorio circostante a Cicastello che è il posto dove il maestro ha deciso di vivere dal suo ritorno di Parigi e anche alcune vedute dell'Ett alla data Ormina comunque una mostra interamente dedicata a Catania proprio un omaggio a Catania e si avvicina la giornata il prossimo 25 novembre contro la violenza sulle donne ed intanto il centro antiviolenza Tamaia ha annunciato una manifestazione di protesta proprio per quella giornata il 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in piazza Università il centro dice ha due tre mesi di vita in assenza dei fondi il comune ha infatti un debito con l'associazione di circa 70 mila euro che deriva da uno stanziamento erogato nel 2016 al distretto socio-sanitario 16 da parte della regione Sicilia ad oggi come reso noto dalle responsabili della struttura di assistenza alle vittime di violenza che rischia ancora una volta la chiusura sono stati accreditati solo 13 mila euro per la copertura delle attività finora realizzate dal centro e regolarmente rendi contate il mancato utilizzo di questi fondi ne ha comportato il ritiro già nel 2017 seguito da un nuovo riaccredito nel 2019 dunque sarà protesta in occasione della giornata internazionale contro la violenza è tutto ci fermiamo qui per questa edizione di ora tg la prossima in diretta come sempre alle 19 e 45 grazie di averci seguiti vi ricordo che potete farlo anche attraverso il sito internet di re tv adesso le previsioni del tempo arrivederci a tutti le previsioni meteo per la giornata di martedì 19 novembre in sicilia ancora una perturbazione attraverserà l'isola portando piogge anche a carattere temporalesco in quasi tutte le province mari prevalentemente mossi lo ionio ed il mediterraneo le temperature massime da 19 ed 11 gradi le minime da 15 a 5 grazie a tutti Grazie a tutti.